salve a tutti avendo necessità di spostare il modem da una stanza a un'altra ho seguito i consigli di andrea che mi ha appunto consigliato di usare il tubo del passaggio del cavo lan per passare il cavo di fibra che mi ha fornito lui che sono circa 10 metri in questo caso come vedete senza toccare minimamente il box installato dell'open fiber come potete vedere sono passato attraverso il tubo land dove c'era un cat 5 per poi passare in un'altra stanza andrea mi ha consigliato di nastrare almeno un metro abbondante di cavo di fibra per evitare strappando di distancare appunto la testa del cavo questo praticamente il passaggio vedete questa è la fuoriuscita dalla scatola sono stati fatti due tagliettini per non pizzicare la fibra purtroppo mi sono dimenticato di fare il video prima quindi ve lo sto facendo adesso per lavoro fatto comunque sia praticamente questo poi va a finire direttamente nel nel tubo del passaggio del cavo lan che appunto come direttore cat 5 e questo è tutto il passaggio che ha fatto sono circa una decina di metri tutto il passaggio del del cavo per va a finire qui e questa è l'uscita del cavo ok teoricamente è molto semplice teoricamente però andrea mi ha consigliato di usare molto molto lubrificante molta vaseline altrimenti chiaramente non scorre è un po a rischio perché chiaramente il cavo di fibre autica è molto fragile però procedendo lentamente con qualche piccolo strappetto siamo riusciti a evitare le curve questa è la fuoriuscita e poi si collega al modem eccolo qui e quindi ho potuto spostarlo da una stanza ad un'altra chiaramente per i consigli consigli più tecnici poi seguirete andrea comunque il passaggio è molto semplice grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti